signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale quando ho fatto il video sull'illusionismo ho detto che in un paio di settimane avrei fatto un video dedicato alle tecniche di illusionismo spicciole e cinque settimane dopo eccoci qua questa settimana andiamo a parlare di veri e propri trucchetti mi sono voluto concentrare su quelle tecniche di illusionismo talmente spicce ed elementari da non aver bisogno di un intero video per essere spiegate e che quindi ho potuto accorpare assieme sono delle cose che possono essere interessanti per i neofiti perché sono quelle classiche cose che è difficile arrivarci da solo ma dopo che te le hanno spiegate sono ovvie comunque per rendere la cosa interessante anche per i veterani ho assegnato a ognuna di queste tecniche un nome volutamente stupido e quindi facile da ricordare cominciamo col dire che non potete utilizzare queste tecniche per impostarci sopra una campagna e non potete usarla neanche per impostarci sopra una singola quest molto probabilmente al di là del fatto che cercare di contraddire ogni singola scelta dei sparti sarebbe qualcosa uno sforzo sovraumano che vi porterebbe rapidamente ad avere un collasso nervoso sarebbe anche proprio contrario allo spirito del gioco di ruolo come ho già detto più volte in precedenza se volete avere il controllo totale della storia scrivete un romanzo questi sono semplicemente dei trucchetti che si possono utilizzare durante il corso di una quest per evitare di perdere il filo della narrazione cadere nel panico o in quei casi in cui un evento è inevitabile che succeda perché sennò si perderebbe proprio il senso logico della storia per avventure successive cominciamo con la prima tecnica che è l'imbuto l'imbuto è quella situazione in cui indipendentemente da quali sono le scelte del party ci sarà sempre un unica e sola possibile via di uscita dalla situazione e fondamentalmente la tecnica che sta dietro la collana di perle ne abbiamo già parlato in un altro video ve lo metto qua sopra se l'imbuto prevede fondamentalmente di lasciare grande libertà iniziale al party loro possono fare le scelte che preferiscono trovare alleati compiere imprese fare quello che fondamentalmente più gli aggrada ma verranno più avanti posti davanti a una situazione che indipendentemente dalle scelte che precedentemente li costringerà a un unico solo percorso obbligato il party arriva in una città in questa città fa varie imprese fa quello che vuole si compra una casa diventa alleato con il signore della città quello che è ma a un certo punto la città viene assediata da un esercito nemico indipendentemente da quello che i pg hanno fatto per ora l'unica cosa possibile che possono fare è cercare di rompere l'assedio mal che vada quello che hanno fatto prima potrebbe dargli modi diversi per farlo ma l'assedio in un modo o nell'altro è per loro inevitabile abbiamo poi il rosso e il nuovo nero quella situazione in cui ai giocatori viene presentata una scelta come molto significativa ma in realtà tutto quello che loro stanno scegliendo è semplicemente una caratterizzazione estetica della vicenda che non va a cambiare sostanzialmente il railroad previsto ai giocatori vengono presentate per esempio varie fazioni in competizione tra di loro nella città ci sono varie gilde dei ladri che si combattono una guerra tra mafie ci sono mega corporazioni rivali che si contendono un particolare scoperta un particolare dipendente due eserciti si affrontano per il controllo di una parte del territorio situazioni del genere ai giocatori viene fondamentalmente detto di scegliere da che parte schierarsi e decidere chi saranno i loro alleati e chi saranno i loro nemici ma in realtà la storyline che il master ha preparato è fatta in modo da adattarsi a qualunque sia la fazione che hanno scelto decidono di schierarsi con l'esercito blu il generale dell'esercito blu sarà molto amichevole nei loro confronti ma verrà tradito da uno dei suoi marescialli che lo ucciderà farà dare la colpa ai personaggi e loro dovranno scappare e andare ad allearsi con l'esercito rosso da cui saranno mal visti perché precedentemente loro nemici ma se i giocatori avessero deciso di schierarsi con l'esercito rosso la situazione sarebbe rimasta esattamente uguale con il generale rosso che viene ucciso dal suo colonnello e i giocatori che devono scappare dai blu il principio alla base di questa tecnica è che i giocatori possono sapere solo quello che il master gli ha presentato quindi non possono sapere cosa sarebbe successo se la loro scelta fosse stata diversa di conseguenza non ha senso preparare nulla che non sia quello che loro poi hanno scelto la tecnica che ho chiamato la manovra Kansas City è leggermente diversa da questa ma non più di tanto in realtà qua ai giocatori viene proposta una reale scelta il fatto è che la scelta che viene messa di fronte ai giocatori è messa semplicemente lì per distrarli dal fatto che non stanno compiendo una vera scelta significativa ad esempio ai giocatori vengono anche in questo caso proposto di schierarsi con varie fazioni oppure vengono proposte varie imprese ma potranno farne soltanto alcune non altre in realtà ognuna di queste scelte è significativa perché porta a dei risultati diversi e delle condizioni diverse alla fine dell'arco narrativo ma in realtà la scelta più importante quella che va veramente a deviare l'arco narrativo non è mai presentata ai giocatori il classico esempio è quello che nel corso delle loro imprese qualunque siano le imprese i giocatori verranno tenuti lontani dalle manovre dell'antagonista principale del prossimo arco narrativo e qualunque sia l'impresa che scelgano di fare questa in qualche modo disturba quello che diventerà l'antagonista principale e che quindi nel prossimo arco narrativo arriverà cercando vendetta ai giocatori sembrerà che le loro azioni sono state importanti e che l'inimicizia dell'antagonista sia causata da loro stessi ma in realtà indipendentemente da quello che hanno scelto di fare a loro non era mai stata presentata un'opzione per allearsi con l'antagonista quindi tutto quello che loro hanno scelto è irrilevante al fine di decidere chi è il cattivo del prossimo arco narrativo probabilmente la più facile di tutte è quella dell'ordine degli addendi il master ha previsto una serie di situazioni che i giocatori dovranno affrontare ma in realtà queste situazioni sono fondamentalmente una lunga serie di troll quantistici che i giocatori possono semplicemente scegliere in che ordine affrontare e non se affrontare o meno l'esempio per antonomasia è quello del dungeon un dungeon ha varie stanze ogni stanza contiene un incontro quando i giocatori esplorano il dungeon stanno scegliendo in che ordine fare questi incontri ma non stanno scegliendo quali fare quali no alla fine se vogliono esplorare il dungeon li dovranno fare comunque tutti se vogliamo vederla un po più sul macroscopico questo potrebbe essere semplicemente un modo per il master per non sprecare gli incontri il master aveva previsto che a guardia della porta ci fosse un drago i giocatori però sono riusciti a scogitare un piano per passare dalla porta senza dover combattere con il drago il master li fa passare lo stesso ma quando loro usciranno da quella porta il drago li attaccherà perché lo hanno saltato nell'incontro prima unendo questa tecnica ha anche un lieve reskin fondamentalmente il master può preparare una serie di incontri prestabiliti sufficientemente generici che poi lancerà addosso al party ogni volta che vuole descrivendoli semplicemente in maniera diversa è un ottimo metodo per regolarsi i tempi tra una sessione e l'altra nel caso durante la sezione succeda qualcosa che il master non è preparato ad affrontare e deve perdere tempo per portare a termine la sessione come ultima scelta abbiamo il complimento del cameriere che è esattamente l'opposto di tutto quello che abbiamo visto prima ai giocatori viene presentata una situazione in cui gli si dice che hanno varie possibilità di scelta alcune con gravi conseguenze altri con conseguenze positive ma in realtà qualunque sia la scelta che i giocatori faranno il master di lavoro che hanno fatto la scelta corretta anche in questo caso l'esempio classico è una stanza dell'enigma in cui ci sono tre porte due hanno trappole mortali e una è quella giusta riuscirete a risolvere l'enigma per capire in quale porta devono passare qualunque sia la risposta che i giocatori daranno all'enigma il master dirà che hanno trovato la porta giusta loro si sentiranno gratificati di essere riusciti a superare l'enigma e il master non dovrà perdere tempo nel progettare altri due incontri che in realtà non portavano da nessuna parte anche questo sulla macro scala potrebbe essere che i giocatori devono scegliere anche in questo caso tra quali fazioni scegliere di affiliarsi e poi indipendentemente da cosa scelgono quella fazione alla fine sarà quella più favorevole quella che vincerà la guerra o quello che è questa tecnica è contemporaneamente la più facile perché semplicemente si tratta di dare ragione ai giocatori ma è anche quella più facile da nascondere per il semplice fatto che i giocatori sono i protagonisti della loro storia e quindi è perfettamente razionale che i protagonisti stiano vincendo nessuno sospetta nulla fin tanto che le cose gli vanno bene lo scopo di queste tecniche infatti è proprio quello di cavarsi dagli impacci e far procedere la sessione in maniera scorrevole nonostante il master stia come si è già detto tenendo tutto in piedi con scotch e corda perché la questione è uscita totalmente dai parametri che hanno stati previsti non cercate di abusare di queste cose è ovvio diciamo che per oggi la finiamo qua sicuramente ce ne sono ancora un sacco di altre a cui io non ho pensato e anche un paio a cui ho pensato ma non ho inserito perché non sono riuscito a trovare un nome abbastanza stupido nel caso comunque voi ne conosciate altre e soprattutto abbiate un nome da associarli scrivetemelo qui sotto non escludo che se arrivino abbastanza proposte magari poi faccio un secondo video in cui le riassumo tutte assieme e ovviamente scrivetemi anche quali sono quelli che utilizzate voi quali non utilizzate perché li utilizzate perché non li utilizzate scrivete tutta una sezione dei commenti qua sotto servono a me per rubarvi le idee come servono agli altri per rubarvi le idee che è un po' il tema del canale rubarci le idee tra di noi se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete per aiutare a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate il tasto della campanella per ricevere le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo nei prossimi video